Un cordiale saluto da Mauro Ciutini e dalla redazione di Firenze Smart Buon Sabato. Partiamo con la 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, personale su strada per lavori. Un veicolo è fermo sulla 11 tra Prato Ovest e Prato West in direzione di Firenze, solita direzione tra Capannori e Alto Pascio, materiali dispersi. Lavori sulla 1 fino a lunedì in modalità continuativa. Chiuso il casello di Firenze Sud in entrata verso Bologna, in uscita per chi proviene da Firenze, si consiglia quindi di utilizzare la stazione di Firenze in Pruneta. A Firenze, ricordo, vengono effettuati oggi e domani alcuni lavori alla rete di distribuzione del gas. La strada sarà chiusa tra via Val di Nievole e via Allori. Siamo in via di Novoli. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!